Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale al Mondiale Blitz 2021, siamo arrivati all'ultimo turno con 6 giocatori insieme in vetta al torneo. Si tratta di Aronian, Dubo, Artemiev, Duda, Vashelagrav e Ferugia. Dietro di loro, a mezzo punto di stanza, il solo Karzen. Stiamo per guardare insieme l'incredibile partita tra Vashelagrav e lo stesso Karzen che giocano per il titolo. Partiamo! Di bianco Vashelagrav apre la partita con E4, Magnus Karzen risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in B5, il francese entra nella Ruy López. Ma come contro Nepomnici nella sfida mondiale, Karzen non gioca la berlinese e invece continua con A6. L'alfiere sotto attacco si porta in A4, cavallo in F6. Siamo nella difesa Morfi, Vashelagrav segue la linea principale che non è quella di difendere il pedone, e gioca a rocco corto. Il pedone, come dicevamo, non è stato difeso ma con Re al centro e a due mosse dall'arrocco non è la cattura del pedone, è la continuazione principale del nero che invece è quella che gioca a Karzen, che ha alfiere in E7. Adesso che questa colonna è chiusa e il Re è vicinissimo all'arrocco, veramente, il pedone in E4 va difeso, il bianco gioca a torre in E1. B5 l'alfiere si porta in B3, a rocco corto anche per Karzen e a rocco corto invece della mossa principale D6. Ora, attenzione, perché in caso di C3, non giocata, vedete, da Vashelagrav, il nero, che non ha ancora mosso il pedone D, può anche spingere direttamente in D5 e giocare il famoso attacco Marshall. Allora, ritorniamo indietro, Vashelagrav non vuole entrare in queste complicazioni e gioca invece uno dei sistemi anti-Marshall e spinge in A4. Qui c'è il solito discorso, ora, se il bianco potesse giocare una seconda mossa di fila, catturerebbe, vincerebbe il pedone? Perché quello del nero non può catturare, cioè questa torre sospesa in A8, allora Karzen la protegge con l'alfiere in B7, questa è una mossa che ha un duplice scopo, che protegge sì questa torre, ma inizia a mettere forte pressione sul centro, con quest'alfiere sulla diagonale principale, e allora il francese semplicemente protegge il pedone in A4 giocando D3. Finalmente arriva D6, Vashelagrav inizia la classica manovra del cavallo per portarlo o sul lato di Re, o a volte anche al centro, perché vedete che belli avamposti che ci sono sulle case chiare, allora il cavallo in B si porta in D2, la continuazione principale del nero è cavallo in A5, a cosa serve? A prendere un tempo e a liberare questa colonna C, dopo che l'alfiere del bianco si porta in C2 e il nero spinge in C5. Ritorniamo a noi, perché Karzen non segue invece questa linea principale, gioca un'altra mossa ottima che è torre in E8, quindi centralizzazione della torre. Ora noi sappiamo, perché l'abbiamo vista spesso, che questo alfiere si sposterà per lasciare proprio questa colonna a questa torre. Allora intanto Vashelagrav continua con il movimento del suo cavallo, quindi cavallo in F1 arriva H6 a controllare questa casa in G5. Finalmente arriva anche C3, che è quella mossa utilissima per poi spingere al centro in D4. Come dicevamo, Karzen toglie l'alfiere dalla colonna E, e quindi il cavallo si centralizza in E3. Meno giocata di cavallo in G3, ma sempre interessante. E ora, attenzione perché, come dicevamo, punta a questi avamposti, probabilmente il migliore, quello più offensivo, in questo caso F5. Ora, vedete che anche il nero deve trovare una nuova collocazione a questo cavallo, perché il cavallo ha poche case offensive, quindi o anche il nero torna indietro e quindi porta il cavallo sul lato di Re, oppure dovrà prendere un tempo sull'alfiere, giocare C5 e comunque andare a riposizionare il cavallo. Allora, cosa fa Karzen? Lo porta indietro in E7. Ora, qui in questa posizione, cavallo in H4, visto che non c'è nessun attacco di scoperta sul cavallo, perché il secondo cavallo del nero si è messo in mezzo tra donna e cavallo, che quindi non può aprire un attacco di scoperta. Quindi questa manovra col cavallo in A4 e uno dei due cavalli, naturalmente quello in H in F5, è sicuramente buono e giocabile. E invece Vasha Grav gioca H3, cavallo in G6. Ora, questa minaccia non c'è più. Attenzione perché, visto che il cavallo si è spostato, il pedone centrale è di nuovo protetto, e quindi il nero minaccia anche di spingere in D5, Vasha Grav porta il cavallo in H2. E infatti Karzen spinge davvero in D5. Il bianco qui cattura, infatti Vasha Grav giocherà E per D5, anche se al posto di questa mossa c'è anche una buona intermedia. Ritorniamo indietro. L'intermedia è proprio questa mossa di cavallo che arriva in G4. Adesso, dopo il cavallo per cavallo, la donna che ricattura e che quindi protegge, cavallo in F4 a proteggere il pedone centrale, la posizione è sicuramente di totale equilibrio. e dopo che il cavallo si è portato in G4, quindi se il bianco trova questa intermedia, anche la continuazione di per E4 non funziona, perché c'è cavallo per cavallo con scacco, e qui se non si vuole sciupare la struttura, bisogna andare a riprendere in F6 di donna, quindi donna che ricattura in F6, il cavallo si porta in D5, attacca la donna, minaccia anche questa bruttissima forchetta, quindi anche se la donna può tornare indietro, sembra più logico cambiare il cavallo, scusatemi, cambiare l'alfiere sul cavallo, quindi l'alfiere per D5, l'alfiere ricattura, torre in A che va in D8, l'alfiere ricattura in D4, sempre con totale parità. Ritorniamo invece alla nostra partita, perché dopo D5, anche se la partita è comunque in grande equilibrio, mi sembra che Karzen abbia trovato una certa iniziativa. Allora la scena Grav cambia in D5, il cavallo ricattura, donna in F3, inchioda il cavallo di Karzen, sull'alfiere fortissimo, ma sospeso in B7. Allora, cosa fa Karzen? Con cavallo in H4, attacca la donna, donna in E4, perché si deve togliere da questo attacco, è invece un errore. Mossa 18 anche per il nero, siamo al nostro quizzone, la vedete la forte continuazione a disposizione di Karzen? Mettete pure in pausa, è da voi la parola. Ritorniamo subito alla nostra partita, perché Karzen la vede. E qual è? È cavallo che cattura il cavallo in E3. Quindi attenzione perché questa mossa vince un pezzo, ottenuto libera l'attacco di scoperta dell'alfiere sulla donna, è pur vero che la donna si riprende il pezzo sull'alfiere, quindi Vashjagrav ricattura di donne in B7, ma guardate un po' che cosa succede, i due cavalli puntano a G2. Quindi Karzen con la cattura del cavallo in G2, apre l'arrocco di Vashjagrav, che trova un'interessantissima difesa. Torre in E4, lascia in presa anche il pelone centrale, Karzen lo cattura in D3, la torre sotto attacco, ma la torre voleva portarsi in G4. Bella difesa di Vashjagrav. Cosa vuol fare? Ora, attenzione perché non solo c'è l'idea di cambiare torre per due cavalli, che favorisce il bianco, ma c'è anche il problema che il pedone in G7 è inchiodato, ci può anche essere la cattura del pedone in H6. Ora, in una blitz, non è tanto facile uscirne per Karzen. Cosa fa Karzen? Gioca donna cattura in H3. Un terribile errore che Vashjagrav non sfrutterà. Ritorniamo indietro. Come se non usciva da questa brutta posizione? Bisognava ragionare parecchio, bisognava iniziare naturalmente con B per A4, che costringe naturalmente a catturare di Alfiere, quindi l'Alfiere ricattura in A4, ma la torre si sposta e controllando queste case centrali insieme all'Alfiere, insieme alla donna, il bianco non può giocare il cambio torre su cavallo. Andiamo infatti a vedere che succede, perché dopo torre per cavallo, qui non si ricattura nemmeno, ma si gioca torre in A che va in B8, che attacca la donna, donna in C6, torre in B6, che oltretutto difende, ma incredibilmente la donna del bianco è quasi intrappolata, se si salva la donna, donna cattura in C7, c'è un matto pazzesco in 5 mosse, un matto forzato. Sacrificio di donna in D1, e qui bisogna accettarla con l'Alfiere, la torre ricattura in D1 con scacco, il cavallo si porta in F1, cavallo in F3 con scacco, re in H1, torre che cattura in F1 con scacco, unica mossa legale, l'interposizione di torre, ma supportata dal cavallo, la torre catturando in G1, da scacco matto. quindi pazzesco, quindi ritorniamo a questa difesa, quindi quando la torre si è spostata, non si può ancora fare questo cambio, cosa bisogna fare? Bisogna giocare la seconda idea, che avevamo visto, Alfiere che cattura in H6, torre in A che va in B8, donna che cattura in C7, torre che cattura in B2, una posizione caotica, è dove però il bianco, può tentare di resistere, solo con una difesa perfetta, e di sicuro, anche adesso, non c'è il tempo di cambiare, torre su cavallo, se no arriva lo scacco di torre in B1, che è sicuramente vincente. Allora, ritorniamo a noi, e come mai invece, questa cattura della donna in H3, che sembra proteggere tutto, invece è un grandissimo errore, che Vashla Grav non sfrutta? Perché guardate che succede, se il bianco trova donna in D5, questa batteria al fiere donna, che punta in F7, non protetto, è una minaccia micidiale, perché non c'è difesa, guardate un po' che succede, qui oltretutto, vedete che questa torre, sta proteggendo l'altra sospesa, torre in E6, è la mossa migliore, è la difesa migliore, torre in G3, attacca la donna, C6, donna per torre, e qui bisogna accettarla per forza, anzi, scusate, qui va accettata, ma di donna, la donna, ricattura in E6, ma c'è sempre l'alfiere, alfiere per donna, il pedone ricattura, e adesso, veramente, il bianco, gli fa il cambio, una torre per due cavalli, torre per cavallo, cavallo ricattura, il re ricattura, anche se il nero ha qualche pedone in più, però, il bianco, ha un pezzo di vantaggio, e semplicemente, vincerà questa partita, ritorno a Mandomi, quindi, dopo che, Karzene ha giocato, perché qui siamo, pur sempre alla mossa 21, e ricordiamoci che queste sono partite blitz a 3 minuti, più 2 secondi di incremento per mossa, Vashla Grav, non trova questa idea, trova però, torre in G3, che attacca la donna, allora, questa donna si porta in F5, arriva finalmente, il torre per cavallo, torre che cattura il cavallo in G2, cavallo ricattura, e giustamente, Vashla Grav non scopre il re, ma, torna indietro, e ricattura di donna, donna cattura in G2, torre in A che va in D8, la partita, è di nuovo, in equilibrio, allora, il francese, inizia a manovrare col cavallo, cavallo in G4, fa, una brutta minaccia, che fortunatamente, per Karzene si vede anche al volo, che alfiere per pedone, e qui non si può catturare, se no arriva la forchetta di cavallo, che dà scacco e vince la donna, allora Karzene cosa fa? Sposta subito il re in H8, A per B5, A per B5, il cavallo torna in E3, attacca la donna, donna in H5, cavallo in F1, ora qui si sta anche un po' perdendo tempo, perché Vashla Grav vuole portare il cavallo in G3, per fare, da scudo, al re proprio col cavallo, e quindi spostare dopo la donna, ma qui arriva E4, il cavallo si porta in G3, attacca la donna, donna in G6, alfiere in E3, alfiere in D6 è forte, attenzione perché qui c'è anche l'idea di giocare F5, F4, allora il povero cavallo si deve rispostare, il bianco minaccia di cambiare le donne, e al nero questo fatto non gli conviene, infatti Karzene sposta la donna in H5, che attacca pure il cavallo, il cavallo ritorna in G3, alfiere per cavallo, attenzione a non catturare di donna, perché si crea quella brutta geometria, donna di fronte al re su colonna aperta, colonna aperta attaccabile in particolar modo da una torre, in questo caso, vedete, non torre in E6 perché c'è l'alfiere, ma torre in D6, torre in G6 è brutta, e allora qui bisogna riprendere con il pedone, infatti il francese riprende alla mossa 33 col pedone F in G3, torre in D3, vedete che Karzene, dopo tutte queste manovre del cavallo, ha ripreso in mano l'iniziativa, allora donna in F2, arriva F5, alfiere in C2 scaccia la torre, la torre torna indietro in D6, re in G2, cosa fa? Intanto si ricompatta, e lascia la possibilità a questa torre, anche di arrivare sulla colonna H, allora intanto Karzene raddoppia le torri, torre in E8, torre in H1 attacca la donna, donna in G6, quindi si sposta, inchioda in pratica il pedone sul re, ma più che altro mantiene la protezione del pedone in F5, allora alfiere in F4 attacca la torre, torre in D5, donna in E2, arriva C5, ora attenzione, vedete che questo pedone, ha bloccato la difesa della torre, ma qui naturalmente non si può catturare, infatti Valcella Grave non lo farà, perché guardate un po' che disastro, dopo che la donna cattura in B5, si perde la protezione su una linea critica, una linea di attacco dove il re è scoperto, torre in D2 con scacco, anche se c'è un difensore, c'è il famoso ricarico, alfiere per torre, la torre ricattura con scacco, prende il secondo alfiere, vince la partita, e allora Valcella Grave gioca B3, Karzene avanza in C4, B per C4, il pedone B ricattura, torre in F1, no, cosa vuol fare? E lui vedete che si vorrebbe anche interporre, e quindi vuol spostare la donna, ma non vuol permettere che lo scacco sia decisivo sulla seconda traversa, Karzene porta la donna in F6, e invece questo è un errore, che rimette in gioco il bianco, qui bisognava giocare donna in C6, inutile attaccare il pedone quando Valcella Grave può catturare invece adesso in C4, allora Valcella Grave cattura il pedone con la donna in C4, donna in B6, alfiere in B3, guardate, si è ricreata questa batteria alfiere donna, che punta a questa torre, ma il bianco non la cambierà mai, la donna per due torri in questa posizione, cosa fa Karzene? Mossa 44, torre in C5, attacca la donna, attacca il pedone dietro la donna, ma purtroppo questo è un errore, perché di nuovo, come nell'occasione precedentemente mancata dal bianco, la batteria alfiere donna, puntata contro F7, è forte, allora Valcella Grave porta la donna in F7, già questa è una brutta posizione da difendere per il nero, ma torre cattura in C3 è il vero grandissimo errore, che fa crollare tutta la posizione, perché Valcella Grave trova il colpo decisivo, alfiere in E5 è un attacco doppio micidiale, che minaccia la torre sospesa da una parte, e il matto di donna in G7. Magnus Karzene prova l'ultimo trucco, scacco di torre in D2, attenzione a non interporre, perché la donna controlla F2, ma dopo che il re si sposta in H1, Karzene abbandona. Con questa vittoria, Valcella Grave rimane al primo posto, della classifica finale, insieme a Duda e Firuja, che però, Firuja è indietro con il punteggio Bukholz, e quindi il francese e il polacco, si giocheranno il titolo, il titolo mondiale blitz, agli spareggi, che vedremo domani. Quindi un torneo veramente appassionante, una rimonta incredibile di Valcella Grave, quindi una partita, che anche oggi spero vi sia piaciuta, se vi è piaciuta non scordate il like, ma soprattutto non scordate di iscrivervi al canale. Grazie tante per l'ascolto, e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!